A presto, cammina, su! Muoviti! E cademi giù, faccia a terra! Su, avanti, spregatemi! No, no! Certo, spregati! Intanto mi faccia vedere i suoi documenti. Oh, oh! Pensa come sarebbe bello andarcene in un posto dove non ci conosce nessuno, dove nessuno sa che io sono una... Una puttana e io un bandito. Ma mica ce l'abbiamo scritto in faccia! In faccia no, ma siamo così. I soldi! Dimmi dove sono i soldi! I soldi, i soldi, i soldi! Io t'ammazzo! T'ammazzo! Non chiedermi niente, sei una carogna! No! Nella legnaia! Hanno abbandonato l'Alfa qui sotto la galleria. Mezz'ora dopo il proprietario dell'altra macchina ha telefonato al 113. La gente della stradale e il ragazzo sono stati uccisi qui, al diciottesimo chilometro. I posti di blocco istituiti immediatamente non hanno dato alcun esito. Come mai siete potuti vedere? L'alora! 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 Grazie a tutti.